www.nerazzurri.com Da 1 a 10, quale scelto sei per iniziare questa nuova avventura? Un 10! Sì, sono molto scelto, molto felice di essere qui finalmente e non posso aspettare di iniziare! Sì, sono molto felice di portare i colori Nerazzurri, da dove si arriva? Mi piace come giochino, credo che il club è un migliore fit per me. Mi piace il entrenatore, la forma che attacca, la forma che gioca il gioco. Mi piace anche il team, i giocatori, quindi sono davvero scelto! Siamo in Bergamo per solo un po' di ore, ma già avete visto un po' di questo. Mi piace la città? Mi piace davvero molto, sì, un bellissimo città, un bellissimo paese. Mi piace anche la cultura, quindi penso che mi sento a casa qui. Spendete circa 10 giorni con Martin Derone, con il tuo team nazionale. Aveva qualcosa di più di quello che aveva già detto a te? Beh, Martin mi ha detto molto sui club, sui giocatori, sui giocatori, sui giocatori, ma anche sui paesi e sui città. Mi ha fatto sentire davvero benvenuto. Come sei l'italiano? Ho iniziato a prendere le leggi, sì! Per quanto riguarda le leggi? Scusate un po' di parole. Grazie, prego, ciao, io sono Thun. Ma ci sono... Ho bisogno di sapere molti più parole. Quali è Thun Copemainers? Chi è Thun Copemainers? Introducivi te stesso ai fanci. Beh, sono Thun Copemainers. Sono un midfielder. Voglio spiegare il ball in fronte. Voglio aiutare il team. E anche, defensivamente, voglio lavorare molto. Grazie a tutti.